Le due rane C'erano una volta due rane. La prima viveva in un acquitrino, mentre la seconda abitava in una piccola pozzanghera formatasi al centro della strada. La prima rana cercava di convincere l'altra ad abbandonare la sua pozzanghera e a trasferirsi nell'acquitrino. Qui c'è spazio per tutte e due. L'acqua è profonda e le canne ci nasconderanno dai serpenti. Ma l'altra rana non ne voleva sapere. La sua pozzanghera era così comoda e poi c'era nata e cresciuta perché mai avrebbe dovuto abbandonare la sua casa per seguire la vicina. Un giorno però da quella strada passò un carro. La rana che abitava nella pozzanghera non fece in tempo a spostarsi e le ruote del carro la uccisero. Anche tra gli uomini ce ne sono molti che piuttosto di cambiare le loro abitudini sono disposti a subire qualsiasi cosa.